Se un'azienda fa schifo e non è quello che ci ha raccontato di essere e noi iniziamo ad avvertire un po' che è così, lo dobbiamo capire subito, anche prima del colloquio, altrimenti è un problema enorme. Da quando esistono gli annunci lavorativi avrete sicuramente notato che tutte le aziende sono Google, cioè sono tutte leader del settore, sono tutte straordinarie, poi però quando si parla di negoziazione e di stipendi offrono sempre stipendi da fame, però questo è un altro discorso, è che quindi si vendono sempre come la migliore azienda che esista al mondo. E quindi visto che comunque le offerte di lavoro non sono tantissime e noi magari siamo in ricerca attiva, rischiamo di incappare, di cadere in questi loro tranelli e accettare di andare a colloquio o addirittura in alcuni casi offerte di lavoro, anche se iniziamo a percepire che l'azienda in cui stiamo andando non sia un granché. Ci sono però un po' di trucchetti che voglio condividere con voi per aiutarvi a capire quando è il caso di togliere di mezzo l'azienda e di metterci una croce sopra perché fa schifo e quando invece ne vale la pena di investire il nostro tempo e di andare avanti nell'iter selettivo o addirittura di accettare un'offerta. Il primo campanellino d'allarme è sempre il fatturato. Ci sono diversi strumenti per trovare il fatturato, o attraverso la partita IVA dell'azienda che spesso si trova sul sito dell'azienda quindi andiamo a ricercare poi la partita IVA e vediamo le condizioni dell'azienda o attraverso il sito informazioni aziende che io ogni tanto ho trovato molto utile e che mi ha aiutato a capire quale fosse la condizione finanziaria dell'azienda perché se non ci sono i soldi non è una grande azienda. Anche perché molto spesso queste aziende senza una forte stabilità economica tendono a pubblicizzare altri servizi tipo il biliardino, il ping pong ma se non arriva lo stipendio a fine mese, del biliardino e del ping pong non ce ne facciamo molto. Il secondo consiglio è andare a vedere il sito dell'azienda. Sembra scontato, ok, è chiaro che vai a vedere il sito dell'azienda però ci sono due cosette che potete fare sul sito. La prima è controllare se c'è un blog e se il blog è aggiornato perché il genere il blog aziendale è l'ultima cosa che si fa in azienda quindi se c'è budget per curare per bene il blog aziendale è molto probabile che sia un'azienda abbastanza florida e il secondo consiglio è cercare di capire a che livello di tecnologia è il sito se è fatto abbastanza di recente, se è piacevole perché anche qui le nuove tecnologie costano tanto e un'azienda che investe sul sito investirà sicuramente anche sulle risorse o comunque un'azienda propensa all'investimento. Un'altra cosa che si può fare, un po' malata però funziona è andare a stalkerare tutte quelle persone che hanno lavorato precedentemente nell'azienda per la quale voi state per svolgere l'iter selettivo come potete fare? Due siti, o su LinkedIn andando quindi a ricercare quelli che ci lavorano o quelli che ci hanno lavorato oppure su Yusibi, la mia straordinaria piattaforma che presto sarà leader nel mercato della ricerca e selezione di personale sulla quale vi invito a creare il vostro curriculum a parte gli scherzi Yusibi ormai la conoscete ci ho fatto un video se non avete ancora creato il vostro profilo andate a crearlo perché per me è molto importante e soprattutto vi potrebbe aiutare tantissimo nella vostra ricerca e nel vostro percorso di carriera quindi fatelo e ovviamente una volta che li avete stalkerati avete cercato di capire a che livello di istruzione sono le persone che lavorano in azienda o comunque che tipo di persone possano essere potete anche scrivere direttamente a quelli che ci hanno lavorato per prendere dei feedback alle persone piace sempre quando gli vengono richiesti dei feedback quindi non abbiate vergogna nello scrivere ed a proposito di feedback ti invito ad entrare sul nostro gruppo Telegram trovi il link d'invito in descrizione abbiamo superato le 400 persone e ci aiutiamo proprio su questo punto cioè darci informazioni dall'interno delle aziende e supportarci nel corso degli iter selettivi e nelle decisioni difficili quindi se non ne fai ancora parte entraci e l'ultimo consiglio che voglio darvi e secondo me il più prezioso è seguite il vostro istinto perché noi possiamo fare tutte le ricerche che vogliamo ma alla fine la sensazione che voi avete avuto durante la telefonata o durante il colloquio stesso è quella che vi resta quindi se inizia da sentire un po' di puzza cercate di capire i motivi e ovviamente togliete di mezzo le situazioni che non vi convincono lo so che quando si cerca attivamente lavoro si è molto impazienti quindi vogliamo immediatamente ricollocarci prendere lo stipendio riinserirci nel mercato del lavoro però credetemi dedicare del tempo a selezionare le opportunità di lavoro e soprattutto arrivare poi a scremarle e risparmiare tempo è fondamentale perché se perdiamo tempo se facciamo un paio di colloqui con aziende che poi magari escono con un'offerta di merda o si rivelano terribili durante il nostro periodo di prova è solo controproducente quindi meglio scremare all'inizio che dopo ragazzi per il video di oggi è tutto fatemi sapere cosa ne pensate se volete aggiungere qualcosina a questo video qualche vostra esperienza personale con qualche azienda di merda che magari avevate già qualche sentore ma non l'avete colto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto lasciate un mi piace per supportare questi contenuti e per il video di oggi è tutto grazie per avermi ascoltato e alla prossima